Ci siamo dai, dai che ci siamo, dai che ci siamo, dai che ci siamo Canna, vedi, conca Mi raccomando, in 24 ore o le 50 visualizzazioni o le 60 Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Enrique Gras Grasse E quest'oggi torniamo su parkour Come avete detto al titolo, oggi iniziamo una serie di parkour ragazzi Mi trovo su questo server, play.cubecraft.net Che vi lascio qua sotto in descrizione se volete giocare il parkour E magari mi potrete anche incontrare, mentre io sclero col parkour E voi vi divertite a vedermi sclerare Vi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale Attivate la campanellina, e detto questo incominciamo subito con il video Regal, let's go! Ragazzi, per prima cosa dovete cliccare parkour con il tasto destro su questo mino E io direi di partire nella modalità easy, cioè burn Allora ragazzi, come potete vedere che l'avevo già fatto ma tanto tempo fa Cioè, tipo un anno fa Perciò non me lo ricordo Ok, questo è col crano Ok, io spero di non sclerare più di tanto Allora, ti prego, non cadere Fermo, poi scrivetevi qua sotto i commenti se sono migliorato col parkour o no Allora, no, perfetto, no, no Non sono migliorato col niente Sono sempre quello scarso sfaticato che non vuole migliorare mai Allora, proviamoci Con calma, con calma Ok, con lui, 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 calma Si va qua, poi si salta Si va qua, poi si salta Ahahah, ahahah, ti ha saltato, salto, eh Volevi complicare la mia vita Invece no Poi si va qua e sbada bambi Abbiamo finito Il primo livello Con la bellezza di 37 secondi Se volete che io faccia speedrun sul percorso Scrivetelo qua sotto i commenti Io preferirei di no Allora, comunque, se volete sempre speedrun Arriviamo a mettere un like per questo video Mi raccomando, spolliciate al primo posto Con tutti gli attenti che avete spolliciati Comunque, ragazzi, ora andiamo al secondo livello Allora, vediamo un po' Ah, ok, è sempre col crano Infatti, è sempre la stessa categoria Ma per burn, non so tradurre l'inglese burn In teoria, non so cosa vuol dire in teoria grano Vabbè, comunque ve lo scrivo in credito Ve lo scrivo così potete capire quanto so bene l'inglese Ok, ci siamo, dai Dai che ci siamo Dai che ci siamo Piccolo jump Piccolo salto Sì, sì, sì Dai, 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 però Non è possibile Allora Oh, chiariamo Mamma mia Non è possibile Allora Che minuti Allora Già fa caldo Ok Già ci stanno 20, 30 reali Mai più proveri 30 reali sul termostato Cioè, già ci stanno 30 reali E in più a fare sto percorre Ci staranno 40 reali dentro i miei Allora, perché come l'estate io decido di salta a cosa? Allora, vendirete se no con di una serie? No, no Dimmi a like E te non è manco pubblicato il video Ciao, stai calmo Allora, fermo E' buono Vai, vai sull'esca Ok Ora, non sbagliare sto salto Ok 22 secondi Passiamo a livello Oddio Allora Con calma Allora, saltiamo, saltiamo Infatti, vedete che non c'è nessuno sul server Guardate Sono solo io Vedete, in alto Ricky GassGass Perché nessuno vuole sudare Nessuno Vuole fare il parkour in estate Solo il pazzo Solo il pazzo Il YouTube è Ricky GassGass Lo vuole fare Allora Allora Ok 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 Allora Allora Oh Non è più scusate percetto ora vanno ora torno a un po' all'alto e che hoovito ceci a armo un po' all'alto che d'arriva non parla un altro piccolo annale senza felice e faccio vedere adesso con la mano allora conti stanno 10 secondi di scindicato allora allora ma di ciò mi diceva da 7 minuti 7 minuti 7 minuti ok ok 7 minuti si tu non puoi più non isato che sia che fa più di un applausi di un applauso Miracolo divino, sono qua, allora, fermi. Facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo tec, 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 e sì, 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 prossimo livello, prossimo livello che già mi sono stancato, perché di stress la mappa veramente, allora, mamma mia, tutto spirito da me, mamma mia ragazzi, se ce la faccio più a colpo voglio 300 miliardi di milioni di like, mamma mia. Non ci credo, 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 sì, 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 manco un minuto per fare sto livello non scherzi il livello 4 è stato preso di tutti perché vedete qua in alto qua ora siamo al 5 allora con can non ce la farò mai nella vita non ce la farò mai nella vita ok l'olio l'olio ok mi sembro bicchieri d'acqua torno subito mi sono preparato la bottiglia vai almeno vedo perché se no non ce la faccio molto meglio ora molto meglio ora si che posso fare questo parkour senza scherzare altra acqua ora ce la possiamo fare ora no 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 non sbagliare do not te sbagliare te sbagliare io a ucciditi e chi? allora con can vedi? con can ct 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 100 mila like 100 mila like assolutamente 14 secondi ultimo livello in teoria no aspetta o penultimo oddio sapete che non mi ricordo vabbè io spero l'ultimo lo spero ovviamente comunque mi pare che è il penultimo credo peccato raga peccato si può vedere? e no eccolo ok sono 7 livelli e noi stiamo al sesto te ve li ha detto la sfida sempre dalla nostra parte cioè dalla mia perché voi divertite vedermi sclerare come un pazzo allora con calma con calma con calma con calma anzi ritiro tutti i 30 mila like e i 20 mila se questo video in 24 ore raggiunge le 50 visualizzazioni continuo questo percure le 50 in 24 ore cioè avete le ore contate se non vedete il video cioè lasciate anche mi piace ovviamente ok stiamo calmi ok 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 siiii alleluia perchè sto godendo perchè sto registrando da 15 minuti allora facciamo sto livello 7 poi non voglio vedere più sto capitolo di livelli easy 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 e questo salto è impossibile allora fermi tutti allora con calma perfetto 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 dove diavolo sono? non ho capito più netto io ho detto guarda mi butto poi dove vado vado cioè tanto cioè così tanto grano vuoi che non becchi la palla di feno? ok ah venga rive ah oh si mua 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 che dato dopo mua iscrivetevi al canale attivate anche la capellina guardatevi con tutti i vostri amici che ancora avete fatto mi raccomando in 24 ore o le 50 visualizzazioni o le 60 allora 50 mio poi si è andato anche sempre non mi piace lo stesso comunque raga ciao ciao